Devo confessare che dopo quell'avventura di Ultimo Tango a Parigi, che ebbe un tale successo, fu una specie di boato internazionale, forse raggiunse il picco della mia megalomania, il novecento nasce da questo. All'inizio pensate, doveva essere un film che era un ponte, un ponte tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti. Ben presto capì che per avere un attore sovietico a interpretare Olmo avrei dovuto avere l'approvazione della sceneggiatura della Mosfin e lì finì Il sogno del ponte. Però riuscì a mettere in scena, in cinema, quella che era l'idea del materialismo dialettico, dei contrasti, degli scontri, del portare attori hollywoodiani a recitare con i contadini della bassa, di riuscire a coniugare la prosa e il melodramma con una certa poesia. Insomma, era meraviglioso vedere Sterling Hayden nel ruolo del vecchio nonno contadino, il patriarca, che chiamava Olmo, nome che non esisteva fino alla sceneggiatura del Novecento. Un raggio pieno di Olmi in giro, proprio roba. Si chiamò così Olmo perché era il momento della grande muria di tutti gli Olmi, c'era una malattia che non si poteva fermare e mi sembrava giusto dare questo nome al personaggio. E allora avere Bob De Niro con Depardieu, giovani, pieni ancora di un entusiasmo, devo dire che eravamo tutti molto giovani. Ci voleva una grande forza per fare questo film. E' durato più di 40 settimane. Insomma, siamo stati capaci di prenderci il tempo che ci voleva. La grande e lunga estate dell'infanzia con i nonni. E poi l'autunno e l'inverno del fascismo, dei delitti, della crueltà. E finalmente la primavera del 45, la primavera della liberazione. Ed è proprio il 25 aprile del 45 che chiude il film, con il punto più forse importante dell'utopia. Il processo che i contadini fanno al padrone per dichiarare alla fine che il padrone è morto. Ma non va ucciso perché è l'esempio vivente che il padrone è morto. Se ce ne penso oggi, forse, mi sembra che il novecento con gli anni che sono passati, mi sembra sempre di più un esperimento, un grande esperimento, un esperimento produttivo con tre majors americane coinvolte nella distribuzione, un esperimento di formato, non più i tempi convenzionali di un film, ma due atti, cinque ore, atto primo, atto secondo, come fosse un errore. E' anche un esperimento umano mettere il privato, l'intimo dei personaggi a cui ci affezioniamo in confronto con quello che è il suo collettivo, la storia, l'epica. E forse, soprattutto, un grande esperimento estetico. E' forse quello che oggi mi colpisce di più.